Basta il pareggio al San Marzano di Mister Fabiano per accedere alle semifinali della Coppa Italia di Lettanti, Regione Campania. Sul terreno di gioco del Guariglia di Agropoli, padroni di casa e Blaugrana non vanno oltre lo 0-0. Un risultato finale che sorride alla formazione di San Marzano sul Sarno, in virtù della vittoria per 2-1 maturata in casa nel turno di andata. La prima occasione dell'incontro al decimo minuto sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina in favore dell'Agropoli. Natiello va al centro, Montoro per poco non devia la palla nella propria porta. La traversa nega la gioia del vantaggio alla squadra allenata da Mister Turco. Un minuto prima del quarto d'ora di gioco proteste dei locali per questo contatto in area San Marzano. Il signor Ambrosino è della sezione di Torre del Greco, lascia giocare. Ancora Agropoli al 28esimo, Rechic scappa via ed entra in area di rigore esplodendo un potente sinistro, ben disinnescato da palladino. Nel giro di 4 minuti gli ospiti si rendono pericolosi sfiorando il vantaggio. Al 34esimo, Fodea apparecchia al centro in favore della corrente Castagna. Lex Ischia è sfortunato, conclusione a botta sicura fermata dal legno. Poi al 38esimo, Umberto Prisco ci prova in semivole, ma la sfera sovvola la traversa non di molto. Dopo 60 secondi di recupero, la prima frazione termina a reti bianche. Nella ripresa, dopo 6 minuti, San Marzano vicinissimo al punto del vantaggio. Break di Tarascio che va al centro, dove prima Prisco e poi Castagna. Falliscono la grossa chance per sbloccare la contesa. La gara prosegue su ritmi non altissimi. Gennaro Esposito, subentrato a Prisco. Testa le abilità del giovane Paparella al minuto 85. Zuccata precisa dell'ex Nola. L'estremo di casa con la punta delle dita dice di no al centro avanti ospite. La traversa fa il resto. Nelle battute conclusive è Agropoli proiettato in avanti alla ricerca del punto della speranza. In contropiede, Castagna è poco lucido. Il suo tentativo è un possesso regalato ai padroni di casa. A Nulla serve il forcing finale dei Delfini. Dopo 8 minuti di recupero, il San Marzano conquista la tanto agognata semifinale. Grazie a tutti.